Domenica Alesseneto arriva il Castellammare, squadra scorbutica, serve solo la vittoria Bianco Azzurri? Sì, squadra difficile, squadra abituata al sacrificio, una squadra che difende molto bassa, ci concederà sicuramente poca profondità, dobbiamo essere bravi ad andare a fare un po' quello che stiamo provando durante la settimana. All'Akragas si servono sempre tre punti, è inutile ripeterlo ogni volta, è chiaro che ci sono gli avversari e dobbiamo essere bravi a trovare quella soluzione che ci possa consentire di portare a casa l'intera posta in palio. Cos'è cambiato rispetto ad un mese fa? Adesso l'Akragas vince e convince, segna tanto, subisce poco in difesa. Penso che sia cambiato l'atteggiamento, la mentalità, l'ho detto subito durante la prima intervista che questa era una squadra dove bisognava lavorare molto di più sulla mentalità e sulla testa dei ragazzi che altro perché le caratteristiche e le qualità tecniche ci sono. Poi onestamente devo ringraziare i ragazzi perché vedo in loro molta disponibilità e quando i giocatori ti consentono di fare determinate situazioni dentro al campo con grossi sacrifici è chiaro che per l'allenatore e per uno staff diventa tutto molto più facile. A questo punto della stagione qual è il vero obiettivo dell'Akragas? Lo ripeto da tempo, l'obiettivo dell'Akragas è quello di cercare di portare a casa più punti possibili, poi alla fine si tireranno le somme e pian piano cercheremo di immedesimarci in quella squadra che deve assolutamente portare a casa un ottimo risultato. Cosa ha detto finora questo campionato? Il campionato dice che è un campionato livellato, un campionato che ci sta regalando una supermerzia da parte del Canegati che si è meritata sul campo, che si è meritata perché è stato programmato e quindi la programmazione ogni tanto esce fuori. È un campionato che ancora secondo me e secondo il mio parere dirà tanto e noi ci dobbiamo trovare pronti.